Villa Belussi è una dimora nobiliare costruita all'inizio del XX secolo che accoglierà il vostro ricevimento noziale avvolgendolo in un'atmosfera romantica, che vi permetterà di vivere al meglio il sogno più bello della vostra vita. Villa Belussi propone sale interne dal fascino irresistibile, arricchite dalla presenza di affreschi, specchi e dettagli preziosi che doneranno un tocco di classe e raffinatezza a tutta la scenografia. Vivere il giorno delle vostre nozze all'interno di questa location sarà il più bel regalo del vostro matrimonio. Il giardino all'italiana di Villa Belussi verrà messo a vostra disposizione per imbastire buffè o rinfreschi da sogno durante le più calde stagioni dell'anno. Circondati da alberi secolari e allestimenti curati potrete vivere una favola all'altezza dei vostri desideri. Sempre in questo meraviglioso parco potrete organizzare la cerimonia civile, avvolti da un ambiente unico nel suo genere che si differenzierà per eleganza e bellezza. La direzione di Villa Belussi sarà lieta di fornirvi preziosi consigli per far sì che nel giorno delle vostre nozze tutto sia come lo avete sempre desiderato e vi guiderà nella scelta dei dettagli oltre che nella gestione di tutta la giornata. Il personale di cucina elaborerà per voi un menù che saprà stupire piacevolmente tanto la vista quanto il palato. Ogni proposta potrà essere personalizzata in base alle vostre necessità e ai vostri gusti, contribuendo alla perfetta riuscita della vostra giornata.